Nella quarta sezione del Cibu Day ci siamo occupati delle tecnologie che grazie all'innovazione digitale potranno rivoluzionare il mondo del credit management. Parliamo di strumenti come la blockchain piuttosto che i meccanismi che utilizzano intelligenza artificiale. Il senso della nostra sessione è stato quello di trasferire lo stato dell'arte dell'utilizzo di queste nuove tecnologie e chiarire come la tecnologia rimanga essenzialmente uno strumento simile a un bisturi che nelle mani di un chirurgo può diventare uno strumento che salva le vite, nelle mani di un folle può essere oggetto di uno scempio per magari la distruzione di opere d'arte. Quindi la tecnologia è uno strumento rivoluzionario che dipende però assolutamente dalla consapevolezza e dalle capacità di chi lo utilizza.